Amiche e amici di Volumbrite, siamo al Monviso Sporting Club in compagnia dei vincitori del doppio. Abbiamo qua Ivan Tratter e da questa parte Silvio Culea. Ciao! Allora, la prima domanda che vogliamo farvi è una domanda appunto di coppia, quindi come è andata la finale che avete vinto, se avete rispettato le aspettative che avevate, se gli avversari erano forti, se vi aspettavate di più? Sì, abbiamo vinto la finale abbastanza facile questa volta, abbiamo spinto ogni palla, è andato bene e siamo contenti. Era il nostro terzo titolo in filo quest'anno, sì, sono contento. Facciamo aggiungere qualcosa? No, come diceva il mio compagno di doppio, tutto bene, tutto liscio, anche perché eravamo i favoriti, la testa di serie numero uno, perciò i pronostici si sono avverati. Quindi possiamo dire che siete soddisfatti di questo torneo? Sì, sì, sicuramente. Nello specifico, adesso facciamo delle domande a Silvio, posso darti del tu? Certo. Com'è andato invece il singolo? Il singolo non è andato proprio bene perché ho perso ai quarti contro il giocatore belga, giovane giocatore che tra l'altro non ci avevo mai vinto, la mia bestia è nera e che domani giocherà la finale, speriamo bene per il nostro italiano che ce la possa fare lui. Va bene. Abbiamo altre considerazioni rispetto al torneo in generale, quindi rispetto a come è andato l'organizzazione, la location? No, cioè, devo dire che qua sono molto bravi, anche perché non è la prima volta, anzi, siamo qua come torneo internazionale il primo, però sono svolti i campionati a squadra due anni fa, l'anno scorso, se non sbaglio, è il campionato italiano assoluto, perciò non è la prima partecipazione, tutto bene comunque, tutto confermato, tutti bravi. Grazie, grazie mille.